Il pubblico ministero Il pubblico ministero Alberto Sergio che coordina l'indagine ha affidato al medico legale l'incarico per l'esame che permetterà di fare chiarezza sul delitto. Poco prima di mezzanotte sono terminate le audizioni da parte dei carabinieri che hanno sentito a lungo il marito sessantenne e il figlio ventenne della donna che da circa un anno si era separata lasciando l'abitazione di famiglia a Busolengo, Verona, per andare a vivere sul lago di Garda. Un altro elemento chiave per le indagini è considerato un grosso coltello da macellaio tipo mannaia con tracce di sangue che era dentro uno zainetto di proprietà della vittima. Gli investitori non potranno invece contare su filmati video in quanto nel parcheggio non sono installate telecamere. I carabinieri non trascurrono nessuna ipotesi compresa quella di un investimento accidentale. Una nave da carico generale ormeggiata al porto di Trieste battente bandiera Palau è stata sottoposta a provvedimento di fermo a causa delle numerose irregolarità riscontrate dagli uomini della capitaneria di porto locale. I militari hanno accertato 16 deficienze, tre delle quali particolarmente gravi, motivo di detenzione. Dovranno essere risolte dall'armatore e dall'equipaggio prima della partenza della nave. In particolare è stata rilevata la non corretta tenuta dei locali macchina e a seguito della simulazione di una esercitazione antincendio, l'inadeguata preparazione dell'equipaggio a fronteggiare possibili situazioni di emergenza a bordo. Gli ispettori hanno accertato anche carenze riguardanti i locali di vita della nave e nella documentazione di bordo. Ed ancora parliamo di coronavirus, controlli serrati sulla comunità bengalese di Monfalcone per evitare nuovi contagi in città dove i casi di positività al coronavirus si sono attestati a quota 23. Il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha annunciato che verrà eseguito fino a sabato nell'ex mercato da parte della SUGI un tampone sulle circa 300 persone individuate dal comune che sono arrivate dal Bangladesh nell'ultimo mese. Inoltre verrà inviata dalla Regione una nota dettagliata su tutte le informazioni necessarie per le aziende e le persone provenienti dai paesi extra Unione Europea segnalati dal Ministero della Salute. Ci sarà anche un incontro tra la Regione con i presidenti dell'Assemblea e dei sindaci degli ambiti dei servizi sociali dei comuni. Ed ora per qualche istante diamo la linea alla redazione di Treviso. Jacopo, giovane genio trevigiano di casa al CERN, dice «Studiare a Ginevra mi ha aperto la mente, ha preso cente lodi in un istituto della Svizzera dove si è trasferito con una tesi sui messaggi nascosti tra i numeri». Ritornano sagre e feste nella marca, sinergie tra proloco, ristoranti e negozi. Unpli annuncia il nuovo corso, eventi diffusi e dialogo con il territorio. Fra i consigli niente cibo d'asporto. Conigliano e Castione sono esempi virtuosi. Delitto di Capoverde, 24 anni all'omicida della trevigiana Marilena Corrò. Condanna lieve, scarcerazione ed espulsione per il complice che aiutò l'assassino a gettare il corpo in un pozzo e a far sparire le tracce. Addio a Italo Michelin, pioniere di azienda, sue e le bici della Nazionale. Il patron della FAC Michelin aveva 97 anni, ha diretto anche i marchi Ciclopiave e Michelina, rifornendo molte squadre professionistiche e gli azzurri. Spresiano, bimbo, muore di meningite a sole 42 giorni, vittima di una rara forma di infezione, ricoverato in patologia neonatale a Treviso, è stato sottoposto a un disparato intervento chirurgico. Rosario Moreno, Treviso per Radiodiffusione Europea. E a proposito di coronavirus, un murales di Wonder Woman con camice, stetoscopie e mascherina davanti al CUP dell'ospedale di Padova. È un omaggio alla sanità dello street artist all'SOB che ha realizzato un disegno su commissione dell'azienda ospedaliera. L'opera, che misura 7 metri di altezza, è un tributo a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid-19. L'abbiamo detto in tante occasioni, oggi abbiamo offerto ai commissari anche i dati oggettivi del miglior gettito relativo ai mesi di aprile e maggio, dove in Friuli Venezia Giulia abbiamo assistito ad un crollo delle entrate pari a 53 milioni ad aprile e 80 milioni a maggio. Lo ha affermato l'assessore regionale alle finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, a margine della discussione sull'assessamento di bilancio decreto legge 99 in prima commissione. Questa situazione, ha aggiunto Zilli, si riverbera su uno scenario già molto difficile dove la trattativa con Roma sui patti finanziari è aperta e non è ancora giunta a conclusione e dove c'è una spesa sanitaria che ovviamente, anche per esigenze legate al Covid, continua ad aumentare e ad aver bisogno di risposte statali. Dalla mattina di sabato 11 luglio il tratto dell'autosrada A4 fra Alvisopoli e Muzzano del Turniano, sono in tutto 16 chilometri, sarà a tre corsie. A quel punto, per completare tutto il terzo lotto al Visopoli-Gonars, mancheranno soltanto una decina di chilometri che saranno completati entro la fine del mese di luglio. In questi giorni si stanno concludendo anche lavori di finitura lungo l'asse autostradale, ovvero sia pali di illuminazione e segnaletica verticale e orizzontale, e sui cavalcavia di recente costruzione che attraversano l'autostrada, nonché la stesa dell'asfalto drenante man mano che avanzano gli altri lavori. Per consentire le operazioni di asfaltatura, il tratto fra Latisana e Portogluaro in direzione Venezia sarà chiuso dalle ore 20 di venerdì 10 alle ore 8 del mattino di sabato 11 luglio. Durante il pomeriggio di domani verranno tolti i New Jersey, che delimitano lo scambio di carreggiata nel tratto San Giorgio di Nogaro-Latisana in direzione Venezia, mentre durante la notte saranno ultimati i lavori di cucitura tra la fine del terzo lotto e il primo sublotto del secondo al Visopoli-Portogluaro. Approfittando della chiusura nell'area di servizio di Fratta Nord, verranno installati a cura dei gestori alcuni pali della luce per migliorare l'illuminazione. La stesa dell'asfalto proseguirà nei prossimi giorni, in particolare all'altezza del casello di San Giorgio di Nogaro. E andiamo in chiusura a Venezia. Non ho buone notizie, sono stato sveglio tutta la notte, purtroppo sono costretto a dirvi che annulliamo i fuochi d'artificio per il Redentore. L'ho annunciato ai giornalisti il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Non riesco a farli, ci ho provato fino in fondo a Giunto, facendo riferimento alle ragioni sanitarie che lo hanno indotto alla scelta. In coscienza ha detto non me la sento, per me è la festa più bella dell'anno. Avevamo messo su un dispositivo incredibile per la prenotazione delle barche, anche inventato una serie di cose per limitare il flusso. Brugnaro ha aggiunto, è una decisione mia, mi prendo la responsabilità di questa cosa, però non posso portare una città a rischiare e questa è una città sicura. Sponbrek Sponbrek Domani, sul Friuli Venezia Giulia, al mattino cielo in prevalenza sereno. In montagna, nel pomeriggio, possibile cielo da poco nuvoloso a variabile, con la possibilità di qualche locale rovescio temporale, specie nelle zone più interne delle Alpi e prealpi carniche. Venti a regime di brezza, probabile caldo un po' più affoso rispetto ai giorni precedenti, specie in pianura. Passiamo al Veneto, sulle zone pianeggianti, in genere cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo locali addensamenti dal pomeriggio, soprattutto sulla fascia pedemontana. Sulle zone montane, variabilità con ampi spazi di sereno all'inizio e addensamenti nuvolosi sparsi a partire dalle ore centrali. Precipitazioni, probabilità medio-bassa, sulle Dolomiti bassa, sulle prealpi è nulla o molto bassa, sull'alta pianura di qualche fenomeno a prevalente carattere di rovescio o temporale a partire dalle ore più calde. Per il resto, precipitazioni assenti. Temperature in genere aumenteranno rispetto ai giorni scorsi. Veniamo dunque alla chiusura, ricordando che le previsioni sono a cura di ARPA, FWG Meteo e di ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento, dal nord-est è tutto. Appuntamento alla prossima edizione.